Una sorta di caccia all'uomo racchiusa in un involucro di pseudo psicanalisi, in questo modo che Alfred Hitchcock nel 1945 descrisse e sintetizzò uno dei suoi film più celebri Io ti salverò, Spellbound, uno dei primi film, uno dei primi grandi thriller di Hitchcock che si miscelano con le teorie psicanalitiche, il cinema del mago del brivido è da sempre gonfio, denso, pregno di elementi in qualche modo di stampo psicanalitico, di temi che come in questo film ricorrono ad esempio quello della colpevolezza, ma sicuramente Hitchcock in Io ti salverò riesce a trovare, ad affinare ad altissimo livello con una grandissima perizia proprio questi due elementi, a renderli interscambiabili, quasi permeabili l'uno all'altro, grazie anche al cast di interpreti davvero straordinari, a cominciare dai due protagonisti, Ingrid Bergman e Gregory Peck. Constance Peterson, interpretata da Ingrid Bergman, è una giovane dottoressa che lavora presso una clinica psichiatrica, la cui vita, la cui esistenza viene turbata dall'arrivo del dottor John Edwards, interpretato da Gregory Peck, destinato a prendere il posto del vecchio direttore della clinica, che deve andare in pensione. Tra i due scoppierà l'amore, tanto che questa dottoressa riservata, dedita solo al lavoro, sarà travolta da questa storia, ma il dottor Edwards ha dei comportamenti alquanto strani, ad esempio non riesce a sopportare la visione della neve o la visione delle righe. Questi elementi porteranno la donna a scoprire che l'uomo in realtà non è il vero dottor Edwards, ma è un misterioso uomo, il cui nome è John Ballantine, che ha perso la memoria e crede di aver ucciso il vero dottor Edwards per prenderne il posto. I sospetti presto cominciano a trapelare anche nella clinica, i due saranno costretti a fuggire e Constance aiuterà l'uomo a recuperare finalmente la memoria e a rivelare i motivi anche delle sue tremende paure, delle sue tremende angosce. La lettura psicoanalitica del dualismo tra colpa e innocenza è il tema fondante di questo film che quindi aggiunge un'ulteriore stratificazione a quelle che erano state già altre riflessioni su questo tema presenti nei film precedenti di Hitchcock, ad esempio nel periodo inglese. Proprio per questo Hitchcock volle che una delle sequenze chiave del film, una sequenza onirica che ricostruisce in qualche modo l'angoscia e l'inquietudine del falso dottor Edwards, interpretato da Gregory Peck, venisse pensata, costruita e realizzata da Salvatore Dalì, artista che ammirava molto, proprio per la sua capacità di lavorare e di agire in una dimensione appunto onirica. I film fanno grande la tv, buona visione!